Ciao a tutti, sono Simone e questo è Experimenting Garage. In questo video voglio fare dei test con le lenti grandangolari. In particolare voglio vedere la differenza tra la mia GoPro applicando un effetto di correzione della distorsione del fisheye, la mia Nikon con obiettivo Sigma a 10 mm e il mio iPhone con applicata una lente di un kit che la rende grandangolare. Ecco, questo è il setup delle tre camere puntate verso di me in questo momento. Ho cercato di mantenerle più o meno tutte e tre alla stessa altezza. La GoPro Hero 4, la Nikon con Sigma impostato a 10 mm e iPhone 6S con questa lente di un kit che comprende sia macro che wide. Allora, dopo aver riguardato al volo i video che ho appena girato, la prima camera che commenterei è quella dell'iPhone con il kit grandangolare. L'effetto grandangolare in realtà non è un granché, ma ad essere sinceri non è colpa della lente, è colpa del telefono, in particolare della modalità video. Questo perché nella modalità video non si usa tutto il sensore, ma solo una porzione di esso. Infatti, se si passa dalla modalità foto alla modalità video, sembra che l'immagine venga zoomata. Quindi in realtà questa lente sta aumentando l'angolo visivo della camera, ma venendo preso solo una parte centrale del sensore per il video, non si ha lo stesso effetto che si ha sulla Reflex o sulla GoPro. In ogni caso però, questa lente rende molto bene in modalità foto e secondo me risulta molto utile anche in modalità video, perché capita spesso di trovarsi molto vicino ad un soggetto ed avere con l'iPhone un'inquadratura veramente molto stretta e questa lente aiuta ad aumentare il campo visivo. Inoltre il sistema di aggancio della lente è magnetico, secondo me molto intelligente, infatti è stato sufficiente inserire un annellino attorno alla camera e la lente è magnetica e quindi si appoggia ed è subito pronta. Nel kit che ho preso io ormai tantissimi anni fa, quindi non mi ricordo di preciso quanto ho pagato, ma sicuramente pochissimi euro, è inclusa la lente macro, la lente grandangolare e anche la lente fisheye, che personalmente non mi entusiasma perché distorce veramente tantissimo l'immagine e produce dei larghissimi bordi neri, un sacco di vignettatura. Detto questo, vediamo invece come si è comportata la GoPro. Quello che colpisce più della GoPro, secondo me, è la nitidezza delle immagini. La GoPro, l'action cam per eccellenza, è fatta per essere messa ovunque, deve inquadrare tutto e tutto deve essere a fuoco e bello nitido. Il fatto che abbia una lente così piccola le conferisce un'ampissima profondità di campo, quindi a parte gli oggetti ultra ultra vicini è tutto sempre a fuoco, ed inoltre vengono applicati dei filtri di sharpness appunto per migliorare la nitidezza. La GoPro è ovviamente dotata di fisheye, ma rimuovere la distorsione in After Effects è facilissimo. Basta inserire l'effetto compensazione ottica e per i video girati con la GoPro Hero 4, secondo me il valore giusto è 70, ovviamente invertito per correggere lo stondamento del fisheye. Inoltre, se si imposta il ridimensionamento su illimitato, è possibile correggere la scala senza ottenere dei bordi neri e quindi recuperare tutti i pixel disponibili dall'immagine. Difetti della GoPro, non ha un rendimento ottimale con poca luce, quindi con alti ISO, e secondo me anche il codec di compressione in quelle particolari occasioni ci mette il suo e peggiora ulteriormente l'immagine. Infine, secondo me ha un profilo colore molto particolare, quindi inserire un video fatto con la GoPro insieme ad un video girato con la Reflex, perché magari si ha bisogno di un'altra focale, secondo me si vede subito la differenza tra le due riprese. È vero sicuramente che con la GoPro si può girare anche in Protune, quindi dà più flessibilità in post-produzione, però secondo me non è comunque la stessa cosa. Quindi, detto tutto ciò, passiamo alla Reflex. Che dire, i video con la Reflex secondo me sono semplicemente i migliori. Innanzitutto c'è molto meno rumore, questo perché la lente utilizzata è molto più ampia, converge molto più luce sul sensore e quindi si può girare ad ISO più bassi. Altra cosa, l'obiettivo grande angolare che ho utilizzato è fatto apposta per minimizzare le distorsioni, quindi vuol dire che non c'è bisogno di distorcere l'immagine a computer, e quindi i pixel che si vedono sullo schermo sono effettivamente i pixel acquisiti dal sensore. Altra cosa, i colori, secondo me questa resa è inarrivabile dalle altre due camere, e l'altro vantaggio è ovviamente che l'obiettivo è intercambiabile, quindi usando una focale diversa avrò comunque la stessa resa. E infine svantaggi, perché ci sono anche degli svantaggi, infatti la Reflex non è la GoPro che prendo e mi metto in fronte o prendo e metto nella tavola da surf, e non è nemmeno un telefono che prendo e mi metto in tasca e ce l'ho sempre a disposizione ovunque, non mi occupa spazio. La qualità diciamo che si paga non solo in termini di soldi, ma anche in termini di comodità e di versatilità, ecco. Insomma, se si guarda qualità punto e basta, la Reflex non ha rivali, ma se si tengono in considerazione anche praticità e versatilità, allora entrano in campo anche GoPro e kit per i telefoni. Quindi per questo video è tutto, ma sicuramente ci sarà spazio per altri confronti di questo tipo, mettendo a confronto ad esempio i vari fisciai oppure la qualità audio nei diversi dispositivi, e quindi vi do appuntamento al prossimo episodio di Experimenting Garage. Ciao ciao!